ciao ragazzi buongiorno a tutti buona domenica a tutti se buona domenica spero almeno per il resto che sia allora io riconfermo quello che ho detto una volta che fare il video il giorno dopo forse è peggio perché tu hai avuto modo di pensare veramente non lo fai a caldo e quindi lo pensi veramente quello che dici e ti sale ancora di più il nervoso per quello che hai visto allora io 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 voglio sapere io voglio sapere veramente come fa come fanno certi tifosi ancora oggi a difendere questo allenatore non io io non veramente veramente ho la pelle d'oca quando vi sento ho la pelle d'oca sto vedendo una marea ci sto sentendo e vedendo una marea di cazzate che scrivono gruppi su facebook su instagram gruppi veramente di gente tarata a dire ancora oggi bisogna ringraziare agnelli ringraziate allegri per gli scudetti vinti ma ma io dico ma veramente ma ci fate o ci siete ma ci fate o ci siete poi addirittura io si è più giuventini la giuventinità si vede quando la squadra perde no quando la squadra vince ma perché parlo di me perché poi ci sono anche anche altri ovviamente ma ma io cosa ci sto a fare qua sto qua perché devo insultare agnelli a farmi il sangue acido perché vuol dire che se io mi incazzo contro la società contro l'allenatore contro un giocatore vuol dire che non sono giuventino devo vincere per forza per essere contento devo perdere devo ma di che cazzo state parlando ma di che cazzo state parlando se sono qua è perché anche nella sconfitta sono più più giuventino che mai ma non è questo ma non è che perché devo essere giuventino nella sconfitta non posso criticare queste quattro merda che abbiamo in torino ma di che cazzo state parlando non rompete il cazzo ognuno ti fa la sua maniera non mi rompete il cazzo perché se no io dovrei andare a prendere perché l'ottanta per cento siete aziendalisti tanto siete pecore come come nell'italia normale siete l'ottanta per cento siete tutti tarati nel cervello va bene e non guardate la merda che è stata messa sotto al tappeto basta se no devo venirvi a prendere l'ottanta per cento a dire adesso adesso chiedetemi scusa chiedetemi scusa perché il sottoscritto allegri lo criticava quando vinceva gli scudetti non quando perdeva ok lo criticavo quando quando vincevo gli scudetti mi davate del pazzo perché io sapevo che se tu trovi una squadra organizzata le prendi non c'è niente da fare è la logica del calcio puoi vincere una volta puoi vincere due puoi vincere tre ma dopo basta le sculate finiscono basta basta dovete smetterla dovete smetterla di difendere questa società poi certo si resta giuventini ma non devi cioè se Agnelli va a fare dei crimini dobbiamo difendere Agnelli perché il presidente della Juve di che state parlando va bene essere giuventini fino alla morte è questo lo siamo tutti ma basta ma bisogna criticare dove c'è da criticare e io critico e faccio quel cazzo che mi pare non dovete rompermi le palle va bene scusi chiedo scusa all'amico che non gli piacciono le parolacce visto che è andato da spacca a dire che non gli piacciono i miei video perché dico le parolacce non me ne frega un cazzo di quello che pensi tu c'hai capito basta basta io non ne posso più io non ne posso più di vedere questo questo elemento a Torino allegri te ne devi andare ti devi dimettere te ne devi andare te ne devi andare basta non se ne può più delle tue cazzate che dici in conferenza stampa te ne devi andare vaffanculo vaffanculo te ne devi andare te ne devi sparire da Torino venite a chiedermi scusa venite a chiedermi scusa lo slogan che c'è su youtube no su youtube insomma della nostra cerchia delle cose l'ho tirato fuori io l'ho tirato fuori io ma da quando ho cominciato a fare video su youtube da circa due anni e mezzo due anni e otto mesi dieci mesi più o meno però io lo dicevo già da un anno prima solo che non sto qua a dirlo perché non c'avevo il canale youtube stiamo diventando peggio della peggiore inter e questo è siamo arrivati siamo arrivati siamo peggio della peggiore inter ma se uno che non è nel mondo del calcio come me l'ha visto già da quattro anni sta cosa qua come mai i dirigenti che ci avete non lo vedono non lo vedono perché non ci capiscono un cazzo di calcio quando io vi dicevo tre anni fa paratici porterà alla rovina la juventus paratici ha combinato più disastri che un uragano sportivamente parlando ovviamente anzi no togliamo mi dissocio da questa parola visto quello che sta succedendo agli amici siciliani per l'amor di dio ma capite è in gergo sportivo quello che ho detto ma ci rendiamo conto qua l'unico che c'è da ringraziare è marotta l'unico che c'è da ringraziare è marotta non lo volete capire perché non capite nulla di calcio non ci capite nulla non è colpa vostra ma non è un guarda che non è un disonore non capirla di calcio marotta era l'unico che ci teneva in piedi e quando ha visto quello dove stava andando questa società se n'è andato li ha mandati a fare in culo e ha fatto bene gli unici due che ci sono da ringraziare sono marotta e Antonio Conte che ripeto ma Antonio Conte per me è un traditore di merda e quell'etichetta gli resterà vita per me ma se io devo analizzare le cose quelli che ci sono da ringraziare sono Antonio Conte e Marotta Antonio Conte che arriva a Torino con Stigarribia con Giaccherini con Matri Vucinic non so il primo anno c'era pure Krasic se non sbaglio adesso mi ricordo c'era della merda Peluso Padoin ma di che stiamo parlando questo batte il grande Milan di Massimiliano Allegri con tutti i fenomeni che c'aveva in campo Massimiliano Allegri è quello che preferiva Van Bommel a Pirlo quello che preferiva Denilson a Ronaldinho ma di che cazzo state parlando questo finirà di distruggere la Juventus lui e Andrea Agnelli finiranno di distruggere la Juventus perché voi parlate solo degli scudetti parlate solo degli scudetti perché non dite che sono 30 anni che non vinciamo una cacchio di Coppa Europea ma perché non lo dite questo? e non mi interessa ma le finali io devo vincere le finali basta non se ne può più voi difendete l'indifendibile ma per quale motivo poi? per quale motivo? questo vi ha dimostrato che non ci capisce un cazzo ma adesso a voi io lo sapevo già da prima già da quando vinceva gli scudetti io dicevo questa è tutta merda messa sotto il tappeto questo vince perché c'è la squadra più forte e non c'è avversari contro questo trova un allenatore Tudo che sono due anni che allena SRA ma perché viene umiliato Dionisi l'ha umiliato ma di che cazzo stiamo parlando? questo non c'è una filosofia di gioco quando voi vedete che i giocatori ho sentito ieri no? ieri anche l'altro giorno ma perché non giochiamo sempre come gli ultimi dieci minuti? ve lo spiego io perché perché gli ultimi dieci minuti i giocatori no? che si vergognano a stare in campo anche loro poi ne parliamo di queste quattro merde pure eh capito? saltano gli schemi salta tutto e quindi nella loro testa non c'è più quello che ha detto Massimiliano almeno calma calma indietro passa indietro salta tutto e allora si buttano anima e corpo davanti per cercare di rimediare alla l'ennesima figura di merda che stanno facendo e salta tutto poi ci sta che tu prendi il collo in contropiede come hai fatto col sassuolo e Allegri va in conferenza stampa a dire che dobbiamo dovevamo accontentarsi del pareggio col sassuolo in casa ci rendiamo conto ci rendiamo conto l'emblema di questo allenatore di merda è successo proprio ve l'ha dimostrato se qualcuno ancora ce ne ha bisogno di dimostrazioni perché visto che non ci capisce un cazzo di calcio ancora avete bisogno di dimostrazioni ve l'ha dimostrato ieri all'ottantaduesimo tu stai perdendo 2 a 1 a Verona sei sull'orlo del baratro togli Alexandro e smetti i pellegrini ma 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 stiamo scherzando ma stiamo scherzando ma che allenatore è questo ma che allenatore è questo tu c'hai Caio George non fai entrare Caio George tu stai sull'orlo del precipizio e tu non mi metti dentro pure tu dovevi entrare in campo e metterti in attacco pure tu Massimiliano Allegri dovevi metterti la maglietta e entrare in campo e metterti in attacco per cercare di pareggiare la partita mi fai entrare pellegrini che fino a oggi nonostante Alexandro è un'altra merda che deve andare a fare in culo tu non l'hai mai fatto giocare ma che allenatore di merda sei che allenatore di merda sei sei la vergogna del calcio sei la vergogna del calcio solo uno ha avuto le palle di sfancularti ad anni io feci un video ad anni il mio idolo perché fu l'unico capace di sfancularti capito? fu l'unico che ebbe le palle di sfancularti perché non vale un cazzo tu non vali un cazzo Massimiliano Allegri sei un fenomeno che sei riuscito ad avere un contratto di 4 anni a 7 milioni più 2 di bonus all'anno ma perché? sai perché caro Massimiliano Allegri? perché tu non ci capisci un cazzo ma c'hai un presidente che ci capisce meno di te che non capisce Agnelli tu sei la vergogna dei presidenti altro che ringraziare Agnelli io non ringrazio un cazzo di nessuno è Agnelli che deve ringraziare noi che spendiamo ancora soldi per ste quattro merda sono loro che devono ringraziare noi basta io non ce la faccio più io non ce la faccio più a guardare ste quattro merda ma non perché voglio vincere lo scudetto perché non si può essere umiliati in questo modo qua Massimiliano Allegri primo responsabile di tutto lui ha detto che ha lui prima che cominciassi il campionato ha detto che ha in mano una rosa competitiva da vincere lo scudetto l'ha detto lui in conferenza stava in presentazione non l'ho detto io ha detto che ha una rosa eccellente l'ha detto lui quindi lui ha firmato consapevole di avere una rosa eccellente in mano che per me non ce l'ha ma lui l'ha dichiarato quindi adesso si prende gli insulti e si prende le critiche però è vero che non ha una rosa eccellente da fare chissà che cosa ma da battere Sassuolo, Verona e Empoli non ne parliamo neanche assolutamente sì quindi lui è il primo responsabile smettetela di trovare alibi a questo allenatore di merda smettetela smettetela voi siete il male della Juventus siete il male della Juventus siete il male della Juventus perché continuate a sollevare il tappeto a buttare polvere sotto siete schiavi di un risultato voi siete schiavi di un risultato non io perché io lo insultavo quando vinceva 1-0 quando pareggiava quando vinceva gli Scudetti voi siete schiavi del risultato vergognatevi voi siete la rovina della Juventus capito? non dite a me che perché mi incazzo che io non sono juventino voi non siete juventini schiavi di un risultato di merda voi siete schiavi non io io lo criticavo sempre sempre perché vedevo quando stavamo arrivando siamo peggio siamo arrivati a diventare peggio della peggiore Inter avevamo una struttura sia societaria che di squadra che potevamo andare avanti altri 15 anni che non ce n'era per nessuno bastava un poco di intelligenza e cambiare la pedina al posto giusto al momento giusto da dopo Cardiff loro bastavano uno o due pedine tutti gli anni da aggiustare la cosa e tu dominavi per altri altri 15 anni in Italia e forse sareste arrivato all'obiettivo in Europa questa è la verità questa è la verità non giudicate chi si incazza sei giuventino solo quando vinci no tu sei giuventino solo quando vinci senza rendertene conto sei tu e oggi sei giuventino perché la tua mentalità di merda ti dice che devi essere giuventino è certo che sei giuventino ma le critiche si fanno quando la squadra vince no quando la squadra perde capito chi le può fare io io lo posso fare quando vince e quando perde perché le ho fatte quando vinceva voi le fate solo quando cazzo vi pare a voi no quando vinci quando vinci devi trovare il problema perché quando perde è facile ma questi non sono problemi di oggi sono problemi che ti tirano dietro dai là e ci sei arrivato è solo che qualcuno l'ha visti prima e quindi non rompete le palle vergognati allegri vergognati perché tu guarda avete fatto il trio dei puttanieri lì alla Juventus con tuo presidente tanto quello pensate voi avete fatto il trio dei puttanieri basta questo è il vostro obiettivo vergognatevi vergognatevi fate schifo lasciate questa società questa gloriosa società continuo a ripeterlo lasciate questa gloriosa società per i giocatori farò un altro video perché siete tutti delle merde siete tutti delle merde dal primo all'ultimo di bala compreso siete 20 merde con indosso la maglia più gloriosa d'Italia per non posso dire d'Europa capito siete 20 25 merde capito ciao a tutti grazie grazie grazie